Oh la veglia, eccola la veglia, stanno a parlare di lui, delinguentero di periferia, del bulletto, le bastonate che ti ha dato, dopo il fatto dell'ulchetto, del pellet, ci sono state le conseguenze, perché c'erano i feriti, l'ulchetto si è ferito, è vero, perché ha fatto un atto di violenza, ma come si è comportato, male come al solito, sempre le bombolette, sempre le bombolette spray, quella piccapella, poi c'è le cose, i triccatracche, malissimo, malissimo come al solito, Oh vedi com'è un prepotentello, c'è qualcuno che vede la stella cometa, qui beh c'è la stella cometa, nonna Mari che c'è? C'è la stella cometa, è perché il papa se dimette, ha lasciato la... Eh mi sa che è arrivato, è arrivato, è fatta, è fatta per il papa, Ma per via della bestemmia, il vaticano, basta, mi dimetto, non vuoi sapere più niente, e ha mandato la stella, vedi come guarda, sì, Soprattutto qua, ho trovato quattro cose di pelle, per te, Sì, ma di le bugie, sì, perché non passa mai di moda il pelle, o no? Ma guarda, guarda, hai visto quanto è grande la luna? Eh sì, è grande quanto mi hai fatto con io e tu, no, ma che felice che sei, guarda che luna,